Ciao Federica, oggi siamo in zona Mazzini-Savena, via Lunghena. Ti mostro questo bellissimo appartamento al primo piano con ascensore tutto ristrutturato. Come vedi ha un bellissimo pacco condominiale immerso nel verde silenziosissimo e lontano a tutte le strade. La casa è tutta ristrutturata, sala, cucina, tre camere, due bagni, balcone... Ma a sto punto faccio prima a mostrartelo. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!